Ecco lo zaino della Lowepro con cui faccio i miei matrimoni, normalmente in Italia ho un assistente che mi tiene lo zaino, quando parto sono da solo, ho ancora qualcosa nello zaino, qui c'è un flash della Godox, il TT685 con gelatina rossa Trasmettitore, sempre Godox X-Pro, caricabatterie, una X-Pro2 montato su il suo Huawei 561i2, ho messo un paralluce quadrato perché è più corto, a parte esteticamente mi piace di più, ma è proprio molto più corto di quello originale che è una roba del genere Mi rompe nemmeno le palle quando ce l'ho a tracolla, il suo paralluce originale è troppo grande Vabbè l'altro trasmettitore, qui un caricabatterie, un'altra X-Pro2 con il montato su il 231i4, anche questo con il paralluce cambiato per lo stesso motivo di cui prima Qui abbiamo un 10-24, non lo uso molto perché non è molto lomioso ma poi soprattutto non amo usare gli zoom, ma quando serve un grandangolo molto spinto Questo sicuramente è indispensabile L'ho usato abbastanza nel matrimonio in Scozia, poi casomai se c'è la possibilità metto il link Il 16-1-4, per chi parla full framease è un equivalente del 24, anche questo lo uso non molto spesso, soprattutto per i balli Perché mi voglio avvicinare un po' di più, mi voglio ficcare in mezzo alla gente che balla, e questo lo preferisco rispetto al 23 Poi abbiamo un bel 90mm f2, questa è una lente, questo cazzo di cellulare non mette a me a fuoco, un Note 8 Samsung che fai F2, 90mm, è una lama, questo quando fai ritratti è una bestia, però un po' lungo Vabbè, abbiamo l'adattatore di corrente Poi qua nello zaino basta, ho altri due flash quando parto Perché magari mi serve sia come backup che per avere un gioco di luci durante i balli Per esempio, questa è un'altra batteria del flash, carica batteria, ah ecco, c'è anche questo, non lo sto praticamente mai usando Anche questo per i balli soprattutto lo uso Perché il 56 è un po' troppo lungo, che ricordo il full framease è quasi un 90 Mentre questo è un 50mm, quindi è molto veloce, è f2, leggerissimo Il full frame va bene perché comunque consente di avere uno, di avvicinarsi rispetto a un 24, ma non è troppo lungo E poi ho un drone che sto provando come amatore L'ho immatricolato in Germania Con una placchetta in nifuga Ve lo faccio vedere No, qua Parlo Tanaffi E' veramente molto silenzioso Ora sono in attesa che l'Italia recepisca le nuove normative Perché non ho ancora capito se mi serve il drone Lo sto usando, ripeto, a livello amatoriale per prenderci un po' la mano Ecco, questa è la placchetta che si deve per volare in Germania E' nifuga, quindi se si schianta, se hai qualche danno, quello resta e ti beccano, ti fanno un culo Vabbè, è obbligatorio Poi l'assicurazione amatoriale da amatore, insomma, rubista che è fatto con l'Allianz Vale anche all'estero Ok, ciao